Il modulo di GoForecast darà quella parte di intelligenza a uno strumento, seppur già importante come Z-Scheduling, ma sicuramente arricchito di un aspetto un pochettino più scientifico. Pertanto Z-Forecast ci consentirà davvero di ottimizzare quella che è la nostra forza lavoro, di ottimizzare da una parte quelli che sono i costi, ma al tempo stesso anche di migliorare quello che sarà il nostro servizio, il nostro presidio all'interno del negozio e quindi ancora una volta a favore del nostro cliente.